Senaco, state cercando di combattere contro gli effetti negativi della crisi economica, avete annunciato proprio per questo un ulteriore provvedimento, di che cosa si tratta? Dopo aver posticipato la scadenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del cano di occupazione del suolo pubblico al prossimo 30 giugno, abbiamo voluto agevolare quelle attività economiche che dovranno ampliare questa occupazione o piuttosto chiederla da nuovo, a seguito di quello che sarà il nuovo protocollo delle misure di sicurezza che le attività economiche dovranno rispettare. Tutte le richieste ex nove, tutti gli ampliamenti di occupazione del suolo pubblico saranno esonerati dal pagamento del canone. Questo provvedimento segue altri già adottati dall'amministrazione comunale in tema tributario, ovvero la sospensione degli avvisi di accertamento, degli inviti al pagamento, dei piani di rateizzazione e dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento nonché delle ingiunzioni che hanno scadenza tra l'8 di marzo e il 31 di maggio prossimi.